E l'Ammazza Caffè del 29 giugno, buongiorno a tutti o buonasera se lo ascoltate di sera, settimana di caffè divisivi, tranne uno che ha messo d'accordo veramente tutti, ma quello me lo tengo per gran finale. L'Ammazza Caffè, il sabato di giorno per giorno con Massimo Gramellini. Cominciamo invece dal caffè intitolato Salis sulle ferite, dedicato all'onorevole Salis e che finiva con così. L'onorevole Salis ha tutto il diritto e forse anche il dovere di battersi per cambiare le leggi che disciplinano il mercato degli affitti, non ha però quello di calpestarle. L'Italia è davvero una democrazia meravigliosa, l'unica dove gli esponenti del governo parlano come se fossero all'opposizione e quelli dell'opposizione come se fossero in una dittatura. Dicevo, commenti divisivi basati più che non sul caso specifico, immagino proprio sul tifo, sull'appartenenza ideologica a questo o a quello schieramento. Ad esempio Mario Palmisano, che immagino sia un elettore di sinistra, scrive, mi critica, e squallido il suo attacco nei confronti di una persona, di una donna, che si è appena affacciata alla politica. Che fine hanno fatto i 49 milioni della Lega e la Sant'Anchè? Siamo bravissimi a contare i pedi e le matricole, ma i dinosauri della politica avranno gradito per una sua reale credibilità lo stesso rigore nei confronti dei politici navigati. Ora, caro Palmisano, forse lei si è perso qualche centenario di caffè e anche qualche decina di questi nostri podcast della Mazzacaffè, perché di corsivi dedicati ai politici della prima, della seconda o della cosiddetta terza repubblica, come si chiama adesso, navigati o spiaggiati che fossero, mi pare che ne abbiamo fatti, ne ho fatti tantissimi. Certo non posso essere accusato di avercela solo con le matricole o con uno o un altro degli schieramenti. Qui il principio di cui si discuteva nel pezzo era è lecito in un paese democratico inneggiare a un reato, sostanzialmente a quello che comunque è un reato. Questo era il tema su cui si dibatteva. Infatti Ambra Alpa, un'altra lettrice, dice che non era giusto che la Salis fosse trattenuta in prigione e in quella modalità, senza prove, ma questo non significa che fosse innocente. Vediamo le prove e facciamo un giusto processo prima di assolvere e condannare. Lei cita il caso di Chico Forti, che per la legge americana era colpevole e non andava accolto, come invece è stato fatto dalla Medone e non solo da lei, come un salvatore della patria. Propaganda, beh, c'era di entrambi gli schieramenti. Verissimo, Ambra, però qui in realtà il tema della discussione era ancora un altro. Non era la Salis in quanto tale, era la vicenda del elecito o no, ripeto ancora una volta, in una democrazia, invitare le persone a non rispettare una legge, a commettere quindi un reato. Questo era un po' il tema. Ma è la condizione esistenziale dell'autore dei corsivi, in questo caso mia, quella di cercare di dare un taglio ai suoi pezzi, ma poi di vedere che i lettori li commentano basandosi su altri spunti, di solito sulla personalità della persona oggetto dell'articolo, anche se l'articolo non è quasi mai, tranne che in un caso, quello che ci teniamo per la fine, non è quasi mai dedicato a una persona e basta, dedicato a un tema, a un taglio. E, per esempio, una delle tante questioni che hanno fatto discutere molto questa settimana, e questo è un caffè che invece vi leggo per intero, è quella del delitto di Pescara. L'ho intitolato anche nelle migliori famiglie. Leggo ammirato le analisi degli esperti sulle cause del delitto di Pescara, dove un ragazzino è stato ucciso a coltellate per un debito di 200 euro da alcuni coetanei di ottima famiglia, figli di uomini di legge e tutori dell'ordine. Ho appreso che un omicidio così gelido ed efferato non sarebbe mai potuto succedere se i genitori fossero stati più disponibili, anzi, se fossero stati meno disponibili e più capaci di farsi rispettare, con le buone, anzi, con le cattive. Ho saputo da fonti autorevolissime che la responsabilità è del web, della musica trap, delle droghe, anzi, della reclusione da covid e dei telefoni con telecamera incorporata che hanno prodotto un modo inedito e straniante di percepire la realtà. Ho cercato qualche sociologo che desse la colpa alla società, ma quelli non li intervista più nessuno. Ormai si intervistano solo gli psicologi. Leggendo le loro analisi impeccabili, la mia ansia di padre di un nativo digitale cresceva a dismisura e non potevo non domandarmi come avremmo fatti a ridurci così? Dopo millenni di vita notoriamente pacifica, ordinata, di adolescenti equilibrati e collaborativi, di adulti presenti ed esemplari, una lunghissima età del loro finita all'improvviso. Eppure, all'insaputa delle nostre ansie, il numero dei delitti di sangue diminuisce anno dopo anno, tanto da farmi venire il dubbio che certe analisi deprimenti rispondano a un bisogno, quello di illudersi che i danni collaterali della natura umana si possono estirpare, mentre invece ci si può solo impegnare a contenerli. Questo era il taglio del mio corsivo, anche qui c'è un solo lettore che ringrazio, che lo ha condiviso, ed è Davide Perazzelli che dice «Nel 1975, anno del massacro del Circeo, non c'erano né internet, né i social, né gli smartphone. Vivivamo tutti immersi, e come allora, viviamo ancora oggi, in un universo di stimoli. C'è chi reagisce in maniera virtuosa, chi in maniera criminale, ma questo accade in ogni epoca». Ecco, era esattamente questo, grazie, il taglio del mio articolo. Invece poi la maggioranza dei lettori ha contraddetto, diciamo, la mia tesi, dicendo che no, viviamo oggi nel peggiore dei mondi possibili e che in passato il mondo era molto meglio e i giovani erano migliori, gli adulti educavano meglio i figli. Sarà, ma io credo che la storia umana, nel pezzo l'ho detto in maniera ironica, qui lo ripeto in maniera più seria, il romano è un susseguirsi di stragi, di massacri senza senso, di crudeltà efferate, di migliaia di persone impiccate per la strada. Cioè, io non so se ci rendiamo conto da quale mondo veniamo. Certo, un mondo ideale, tutti sogniamo un mondo dove non ci sono mai delitti e dove tutti sono empatici, ma non è proprio della natura umana, ma non è colpa di oggi, di qualcosa che sta accadendo di nuovo oggi. È sempre stato così. Naturalmente, è chiaro che sono cambiate alcune cose. Franca Negri, per esempio, fa notare, per educare ci vuole un villaggio, dice un proverbio africano, ma oggi forse viviamo tutti invece soltanto come individui, dedichi al proprio particolare. Questo è vero, è vero che, per esempio, una volta c'era una cultura diversa dove si viveva tutti insieme, le famiglie con i fratelli, i cugini, e insomma era diverso. Oggi invece la famiglia tende a essere molto ristretta, spesso solo è composta da due adulti e da un minorenne e quella è la famiglia e non ci sono più altre presenti e questo certamente ampia la solitudine, però è anche vero che quando anche esisteva un modello sociale diverso, anche allora, anzi, più ancora di oggi, succedevano, esattamente le cose di cui oggi. Roberto Masullo dice ciò che colpisce è la totale assenza di pietà in questi ragazzi che hanno ammazzato a pescare e poi apparentemente insomma senza avere reazioni emotive. Ma ripeto, è una cosa che succedeva e successe per miliard'anni per le strade, nelle guerre, ovunque, accanto a episodi di straordinario eroismo, di straordinaria umanità e solidarietà, c'erano episodi di totale freddezza, mancanza di epatia o addirittura di crudeltà. Stessa divisione ha provocato il caffè dedicato alla storia di Linda, Linda la ragazza di Venezia che, ritenendo che la sua classe avesse subito una palese ingiustizia nella seconda prova scritta, quella di greco, perché dice non è possibile, l'ho fatta rifare la versione a mia madre che è insegnante, laureata in greco e anche lei ha convenuto che avevo fatto un solo errore. Allora perché invece mi hanno dato un voto molto più basso e perché una classe in cui tutti avevamo voti alti in greco è stata giudicata in questo esame con la media del tre e mezzo mentre un'altra classe della nostra stessa scuola ha ricevuto voti molti più alti e la ragione dice questa ragazza e tutti i suoi compagni è perché il membro commissario esterno della commissione non andava d'accordo con uno della commissione interna e quindi ha voluto fargliela pagare punendo i suoi studenti. Naturalmente noi non abbiamo la certezza che questo sia accaduto, ci saranno probabilmente anche delle indagini interne del ministero immagino per appurare tutto questo ma rimaneva il fatto che mi ha colpito questo gesto. Qualcuno dice questa ragazza non rischiava niente perché comunque anche facendo scena muta ecco no perché poi non ha detto cosa ha fatto è andata all'esame di orale e non ha parlato ha rifiutato di rispondere alle domande per protesta. Certo forse non rischiava nulla nel senso che comunque l'hanno promossa lo stesso anche se con un voto più basso però l'ho trovato un gesto molto così che mi ha risuonato dentro nel bene e nel male un gesto molto adolescenziale l'adolescenza si protrae fino in età adulta è quello che io chiamo il cupio di soldi è proprio il desiderio quasi di farti del male per farla pagare agli altri perché gli altri si sentono in colpa è un atteggiamento un po' anche narcisistico che però nasconde anche in questo caso sicuramente una grande idealità una grande voglia di giustizia assoluta cioè io riconosco a questa ragazza certamente criticabile per alcuni aspetti ma riconosco un valore che li supera tutti gli altri ed è un valore positivo il valore di essersi battuta per una cosa in cui credeva e di averlo fatto per tutti non solo per sé anche più per gli altri che per sé visto che lei comunque aveva preso credo 6,5 mentre gli altri hanno preso un voto molto più basso Adriana ecco dicevo caffè divisivo proprio mi dà ragione dice anche a me fa molto tenerezza questa ragazza anche io ero così alla sua età una paladina contro le ingiustizie eccessiva forse sì ma guardiamoci noi adulti siamo ancora capaci di ingegnarci davanti a qualcosa altri per esempio Maria Teresa Lesina fa una riflessione appunto più pacata più da adulta dice sarebbe stato meglio per lei sostenere l'orale al meglio e poi dopo fare ricorso sullo scritto così invece l'ha fatto più che altro per parlare di sé ma chi lo sa sicuramente chi ha fatto parlare di sé tantissimo questa settimana e veniamo al mio caffè preferito della settimana appunto è stato quello che ho chiamato il loquace San Giuliano eccoci la differenza fra San Giuliano e Socrate è che uno diceva so una cosa sola di non sapere nulla mentre l'altro è talmente convinto di sapere tutto che spinge il suo sfoggio di erudizione fino a un punto in cui comincia a sospettare che davvero non sappia niente la sua ultima lezione magistralis riguarda Colombo l'ammiraglio credo non il tenente che voleva raggiungere le Indie circunnavigando la terra nessuno avrebbe fiatato se il ministro non avesse sentito l'esigenza di aggiungere che Colombo si era ispirato alle terrorie di Galileo Galilei nato 72 anni dopo lo sbarco delle caravelle peccato eh perché San Giuliano parte sempre bene ricordate quando disse quando uno pensa a Parigi pensa all'arco di trionfo ecco chiunque non sia comunista e malafede riconoscerà che la frase era pertinente se fosse finita lì purtroppo non finì lì e quando uno pensa a Londra pensa a Times Square stessa solfa al premio strega le storie dei libri finalisti fanno riflettere disse in diretta tv un po' vago forse ma perfettamente intonato al contesto ancora una volta sarebbe bastato fermarsi lì e invece lo sventurato aggiunse proverò a leggerli i libri da dove nasce questo bisogno del ministro della cultura di infilare sempre qualche sdrucciolevole postilla forse da un complesso di inferiorità che lo porta a strafare San Giuliano infatti non si rivolge a noi comuni mortali quando parla ma agli intellettuali di sinistra da cui vorrebbe tanto essere apprezzato però quelli sono ancora più furbi di lui infatti parlano complicato proprio perché così quando non sanno qualcosa nessuno se ne accorge i commenti tra i tanti commenti ne ho scelti alcuni allora Elisabetta mi hanno fatto ridere che dice avremmo fatto meglio a tenerci Toninelli il livello era lo stesso ma almeno non se la tirava caro Elisabetta sono felice perché io sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il giorno della rivalutazione di Toninelli ebbene quel giorno è giunto Gerardo Collina scrive è una gara aperta fra lui e Lollobrigida che vinca il migliore o che vinca il peggiore e poi Carla Grelli mi sembra un bellissimo commento per chiudere la nostra puntata dice come osserva una mia amica bisogna riconoscere a San Giuliano un merito quello di contribuire all'innalzamento del livello culturale medio perché ormai ogni volta che parla tutti per andare a documentarsi sulla sciocchezza che ha detto ci facciamo una cultura e mi sembra giusto che sia questo il vero motivo cara Carla per cui San Giuliano si sacrifica per tutti noi per farci diventare più conti chi lo sa la lascio con questo interrogativo e auguro a tutti un buon fine settimana e arrivederci al prossimo Ammazza Caffè questo era l'Ammazza Caffè il sabato di giorno per giorno con Massimo Gramellini Giorno per giorno è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone coordinamento di Tommaso Pellizzari produzione di Carlo Annese con Manuel Iannuzzo a cura diír Grazie a tutti.